Una vittoria non importa aspettarsela, ma belle partite, divertimento, partecipazione, inclusione, ci aspettiamo di trovarla, anzi, è già cominciata sui campi di Cesenatico e la quattordicesima rassegna nazionale di calcio per centri di salute mentale organizzata dall'UISP. A proposito di UISP, subito, linea in diretta al collega Ivano Maiorella che da sempre ci racconta per la stampa, per tutto, le attività dell'UISP, incessante UISP, ma questo pomeriggio davvero un qualcosa di speciale. Buon pomeriggio Ivano, grazie per essere con noi. Grazie a te, grazie a te Giorgio e ai nostri radioascoltatori, davvero qualcosa di speciale. Abbiamo qui molti ospiti per voi, molte voci da Matti per il calcio. Siamo tutti un po' matti, vero Ivano? Per il calcio, per lo sport e per gli abbracci, dai, diciamo così, perché niente più dell'inclusione. Soprattutto oggi, soprattutto oggi, Giorgio, siamo davvero tutti matti per il calcio. Presidente nazionale UISP, Tiziano Pesce. Buonasera Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Fatica per organizzare, dopo due anni di interruzione, ovviamente dovuta alla pandemia, di nuovo questa rassegna in due giorni, dal 22 al 24 settembre. Però, insomma, bentornati, bentornati Presidente. Grazie, grazie. Proprio così, siamo oggi sui campi, per la seconda giornata della rassegna nazionale Matti per il calcio, sui campi tra Cesenatico e Gattio Amare nella spedida Riviera Romagnola, appunto per questo ritorno, dopo due anni di stop della pandemia, di questo appuntamento nazionale a cui, come UISP, teniamo davvero molto. Matti per il calcio, andiamo in campo con squadre formate da persone, con disagio mentale, medici, infermieri, operatori, volontari, per, come dicevate, per divertirci, per ancora una volta rappresentare come lo sport, lo sport sociale, sia un formidabile strumento di aggregazione, di socialità, di promozione della salute, soprattutto per promuovere la salute psicofisica, anche delle persone che si trovano ad affrontare problemi di disagio mentale, fragilità, un Matti per il calcio che riprende con grande entusiasmo, una rassegna nazionale che è un po' il simbolo, però, di un movimento che in decine e decine di città in Italia, attraverso i comitati territoriali della UISP, la nostra rete associativa, tante associazioni sportive, polisportive, ovviamente il lavoro dei centri di salute mentale sul territorio portiamo avanti per uscire dall'isolamento, per dimostrare come lo sport e il calcio, in questo caso, dimostri di essere una formidabile occasione di riabilitazione e di integrazione sociale. Una terapia, una terapia dolce che, insomma, vi rende onore. Grazie, Presidente. Grazie a voi. Allora, altri ospiti, altri prospiti. Ricordiamo che oggi è la prima giornata della settimana europea dello sport e quindi Matti per il calcio è inserita all'interno del programma Big Active di sport e salute del Dipartimento Sport del Governo. Possiamo sentire qualche voce anche di qualche ragazzo in campo, Ivano. Accanto a noi abbiamo Luca Muto della Global Sport di Lariano che gioca in porta. Ciao Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Porta inviolata o qualche gol l'hai preso? Due gol veramente oggi l'ho presi. Erano imparabili, Luca? No, uno parabile, l'altro un po' meno. Però tu ci hai messo di tutto, vero? Ci ho messo l'impersegno, sì. Un bel pomeriggio. Qual è l'episodio, la fotografia che ti porti a casa poi di questo pomeriggio di calcio? Di questo pomeriggio di calcio mi porta a casa praticamente la fratellanza, l'unione che c'è tra entrambe le squadre in cui oggi abbiamo giocato. Stasera al Meazza c'è Donna Rumma in campo contro l'Inghilterra, un tuo collega possiamo dire così. Da portiere a portiere cosa vuoi dire a Gigio? Gigio sei un grande, metticela tutta e forza Italia. Grazie Luca, forza anche a te e i tuoi compagni di squadra. Grazie, grazie. Grazie Giorgio e adesso vediamo qui in campo, la squadra si è fermata un attimo per sentire questo collegamento ma vediamo gli applausi di tutti i compagni di squadra a Luca. Passiamo a un operatore, abbiamo vicino a noi Stefano Cavalli, parliamo di un operatore ovvero colui il quale mette insieme la UISP e la ASL, in questo caso di Parma. Grazie, buongiorno, possiamo darti del tu, vero? Oggi è un giorno di festa, insomma, anche voi sanitari. Allora, intanto ti chiedo, ti piacerebbe essere in campo un giorno a lasciare il camice da... Altro che devo dire che ho sempre giocato con i ragazzi, poi ovviamente quando loro sono tanti non posso lasciare fuori loro e giocare io e quindi sto volentieri a bordo campo. Allora, due anni di pandemia ovviamente hanno bloccato una rassegna come quella di oggi però non hanno bloccato tutto quello che in questi due anni avete continuato a fare, vero Stefano? Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Io poi devo ringraziare l'azienda USE che mi ha dato gli strumenti, ma da sempre, da molti anni, per poter portare avanti questo progetto di inclusione attraverso lo sport che è uno strumento privilegiato per inserire delle persone nella società, per, diciamo, dare a tutti l'opportunità veramente di fare quello che in genere si fa da piccolini che è giocare, che è, diciamo, il mezzo migliore e più facile per comunicare sin dall'inizio e per instaurare dei rapporti di amicizia. Insomma, e qui, devo dire, abbiamo incontrato tanti amici, eh? Amici, ma davvero, in campo poi anche avversari, però nel rispetto naturalmente non solo degli avversari, ma nel rispetto delle regole del gioco e nel rispetto proprio anche della, diciamo, del fatto che lo sport è uno strumento e fondamentalmente serve per divertirsi insieme. Che poi, d'altra parte, immagino che, insomma, quando non si è giocato in una giornata così a Cesenatico, magari nei cortili di questi centri di salute mentale, insomma, la partitella, i ragazzi se la sono fatti. Si, si scappa sempre. Grazie Stefano, buon pomeriggio e buon lavoro. Buon pomeriggio a Cesenatico. E complimenti, ovviamente, perché il tuo è un lavoro, come si sa, delicato e importantissimo. Grazie, grazie. Ivano. Allora, parlavamo di rispetto in campo, abbiamo qui anche un arbitro. Si tratta di Felice Catania, arbitro della WISP Calcio e ve lo passo. Grazie. Buon pomeriggio, Felice. Buon pomeriggio a lei. Diamoci, diamoci del tuo, oggi ci diamo tutti del tuo. Allora, insomma, dai, fischietto in campo, insomma, difficile in un qualche modo tenere a bada questi ragazzi? No, 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 no. Non è stato difficile, ho avuto molta collaborazione dalle squadre, sono state molto educate, anche la maggior parte non giocando mai a calcio, se è adeguata alla situazione. Tu sai che, per esempio, adesso nel calcio che conta, no, la Serie A, la Serie B, il calcio estero, le nazionali, insomma, gli arbitri c'hanno tanto da fare. È vero, c'è la tecnologia, però si continua a litigare, spesso si vedono questi allenatori, anche famosi, lasciarsi andare a intemperanze, le espulsioni. Sì, insomma, io invece credo che questi, non chiamiamoli pazienti, questi amici abbiano ben chiaro cosa sia il rispetto delle regole, è così? Ma deve essere così, in entrambe le parti ci deve essere il rispetto. Se loro che sport è, lo sport è fatto per tutti, il rispetto è uguale. È vero, è vero. E poi voi, insomma, penso che arbitrate anche con rigore, no? Perché l'esempio bisogna sempre darlo. Grazie, grazie Felice. Ok, grazie a lei, buonasera. Buonasera. Grazie. E da un arbitro torniamo ad un protagonista, Cristian Maffei. Che piacere. Il sede dello sport di Genova. Buongiorno. Ciao Cristian, che ruolo fai, che ruolo sei? Sono il numero in punta, attaccante. C'è entra avanti? C'è entra avanti, sì. Quanti gol hai fatto e quanti ne vuoi fare da qui al 24 settembre? Ah, da qui al 24 settembre. Io ne ho fatto per adesso solo uno, ma speravo di farne di poco, però è andata così. Com'è stato? Dai, descrivici sto gol. È stato un bel gol, più che altro collettivo con i miei compagni. Palla, palloni passati e poi sono riuscito, con il passaggio del mio compagno, sono riuscito da solo, non c'era neanche il portiere, sono riuscito a metterla dentro. Diciamo un gol collettivo di tutta la squadra. Merito, merito di tutta la squadra. Dai, però ne aspettiamo altri, Cristian. Insomma, io guarda, poi chiamo Ivano, alla fine, il 24 sera, e gli chiedo quanti gol hai fatto alla fine. Va bene, allora cercherò di accontentare. Buon pomeriggio, ciao. Salve, grazie. Grazie. Allora, Ivano, sta funzionando tutto bene, davvero un bel pomeriggio, sentiamo gente entusiasta, ragazzi, operatori, dai, insomma, che ci dici? Facciamo una piccola pausa, che ci dici di questo pomeriggio che apre questa rassegna? È la quattordicesima? Esatto, ci fa davvero piacere, Giorgio, perché raccontare lo sport sociale per tutti, per noi che lo facciamo di mestiere, non è semplice. Potrebbe sembrare semplice, ma è più complicato, perché non abbiamo testimonial, non abbiamo campioni, e come hai sentito, però abbiamo tante, tante storie. E qui, accanto a noi, abbiamo una voce femminile, perché ci sono anche donne oggi sui campi di Matti Pericato. Ci mancherebbe, non ci fossero. Se sei d'accordo, la sentiamo. Si tratta di una ragazza, una ventenne, tirocinante in scienze dell'educazione, che viene da Como. Si tratta di Chiara Gandini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Chiara. Come va? Come stai? Ma tutto benissimo, devo stare qui è proprio bello. Senti, hai scelto un percorso bellissimo, a soli vent'anni ti occupi di cose importanti, immagino che hai deciso, ti sei accostata a questa che poi, auguriamo, ci sarà una bella carriera, subito dopo la scuola. Com'è nata questa scelta? Sì, è diciamo un amore che è nato e non si è mai concluso. Non deve concludersi, chiaro. Eh no, esatto, speriamo non si concluda mai. Nel momento di scegliere il tirocinio dell'università sono venuta a conoscenza di una comunità vicino al paese in cui abito e ho deciso di intraprendere questo percorso. E alla fine del tirocinio i ragazzi che portavamo ogni venerdì mattina a fare gli allenamenti di calcio, non volendo perdere i rapporti comunque mi è stato chiesto di continuare a far parte della squadra di calcio e da lì ho iniziato a giocare anche a calcio. Ah addirittura, bene, bene. Quindi concili insomma la passione e poi il lavoro. Ovviamente però insomma una professione come la tua richiede studio, preparazione. Cosa c'è di nuovo nell'accostarsi a queste realtà? Ci sono magari scuole di pensiero nuovi, studi particolari che emergono magari anche da fuori Italia? Ma quello sicuramente, però più che altro io direi che osservando la realtà adesso come una giocatrice interna alla squadra alla fine perché non sono più un'operatrice o tirocinante, la funzione riabilitativa comunque o risocializzante soprattutto dello sport emerge, cioè riesco a percepirla molto di più, piuttosto che attraverso magari libri o facendo proprio tirocinio in prima persona, ma essendo lì a giocare con loro al momento. Qual è il tuo ruolo? Attaccante. Ah bene, bene. Senti, ti piace la nazionale di Milena Bertolini, la nostra Italia, la nostra nazionale? La segui? Eh, così così diciamo, perché io non sono una calciatrice proprio originale, ma gioco a pallavola, beach volley. Bene. Quindi, cioè, non conosco molto il mondo del calcio, ecco, però qui lo amo, qui mi piace e continuerò a giocare. E poi il volley, il volley è bellissimo. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Grazie mille a voi, buon pomeriggio. Allora, Ivano, insomma, noi forse avremo la possibilità, più tardino, di aprire un'altra finestra con Cesenatico, perché insomma questa quattordicesima rassegna nazionale merita di essere raccontata. Spero che radunerai anche qualche, qualche voce. Sempre flash, magari proprio sentirli, sentirli salutarci e sarà per noi un piacere. Va bene, va bene. Abbiamo qua un altro ospite, se c'è ancora un minuto. Veramente flash, in un minuto. In un minuto, un ospite particolare, si tratta di Sergio Aveto, che è un operatore della squadra di Genova, particolare perché attraverso lui vogliamo far sentire il calore di tutta la Wisp e di Matti per il calcio per la città che ha subito il terremoto in queste ore, Bargagli. Ecco, Sergio Aveto, qualche anno fa, è stato sindaco di Bargagli. Buonasera, Sergio. Ciao. Buonasera. Grazie per essere con noi. Allora, insomma, due realtà da raccontare in parallelo, questo bel pomeriggio di Cesenatico e poi, insomma, quanto la cronaca, purtroppo, di non piacevolissimo ci ha proposto. Sì, certo. Purtroppo, fortunatamente, però, dico, nell'avvedimento siamo stati fortunati perché fortunatamente non ci sono stati danni strutturali di rilievo, quindi oltre che un po' di spavento per i cittadini della nostra cittadina, non c'è stato. Ritornando, invece, alle emozioni che abbiamo provato oggi su questo campo di calcio, sono indescrivibili perché giocare a calcio con questi ragazzi, giocare a questo livello è veramente una cosa emozionante. Quindi noi dobbiamo ringraziare innanzitutto la WISP che annualmente organizza questa competizione e ovviamente, oltre a tutti gli altri organizzatori, a tutto quello che gira intorno, i ragazzi che sono veramente straordinari e ci danno un contributo che è notevolissimo, che è favoloso. Dimmi in 30 secondi perché tu sei stato un sindaco, forse lo sarai ancora, quando la nostra Italia si trova a fronteggiare delle anomalie climatiche, i piccoli centri, i grandi centri, le metropoli, che cosa devono davvero fare? Secondo te è legato davvero alla distruzione dell'ambiente che stiamo perpetrando o sono delle cose epocali che vanno al di là dell'ecologia? Qual è la tua opinione? Ora, al di là dei terremoti che sono dei fenomeni che è difficile anche da comprendere, anche per gli studiosi, per gli scienziati, però ritornando all'istesso dell'ambiente, se parliamo delle alluvioni frequenti che avvengono, io credo che sia troppi anni che la politica parla di dissesso ideologico e poi infine si fa poco o niente. Ha ragione Greta Thunberg allora, solo parole e pochi fatti. Io credo che si debba partire a dare dei piccoli contributi finalizzati, specifici ai comuni, soprattutto ai comuni piccoli, proprio per cercare di riordinare il territorio, di mettere in sicurezza il territorio, partire dai rivi, perché poi abbiamo visto che anche nell'alluvione recente dell'altro giorno tutto è nato da un intasamento di un rivo, quindi con un po' più di pulizia, perché a volte bastano le piccole cose, non servono i grandi discorsi e i grandi progetti. Allora chiudiamo con un in bocca al lupo ai tuoi colleghi sindaci delle altre zone interessate, speriamo che non ce ne siano più, che si sia fermata qui tutto il problema di non dover riaffrontare emergenze climatiche. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi, in bocca al lupo, buon lavoro, arrivederci. Allora Ivano, è partito già il brano, adesso la pausa per la nazionale e poi ancora un altro flash con noi. Grazie Ivano Maiorella. Grazie a voi, grazie Radio 1 Rai Sport. È bellissima sicuramente, non so se dal punto di vista atmosferico, meteo, lo chiederemo a Ivano Maiorella, è bellissima però la giornata di Cesenatico. Ci sei Ivano, sei ancora con noi? Assolutamente, hai ragione, è bellissima anche perché qui il cielo è davvero cristallino, è sopra di noi ma anche su un campo verde bellissimo. Siamo negli impianti sportivi di Catteo a Mare, proprio a Cesenatico e sono in corso di svolgimento le ultimissime partite, siamo agli istanti finali di questa seconda giornata. Accanto a noi, per questo collegamento conclusivo, abbiamo due rappresentanti dell'organizzazione, WISP ovvero Alessandro Baldi, responsabile nazionale calcio WISP e Tiziano Pesce che abbiamo sentito anche in apertura per un bilancio finale. Io ho qui davanti a me, Alessandro Baldi, calcio WISP nazionale responsabile di tutta l'organizzazione proprio per avere il punto per quanto riguarda la parte agonistica. A te Giorgio. Alessandro grazie, buon pomeriggio, complimenti da parte ovviamente di Radio 1 per la vostra iniziativa. Allora due giorni arrivati finalmente dopo due anni di sosta, insomma è stato difficile riannodare questo percorso, questa rassegna, questo matti per il calcio che insomma coordina un po' centri di salute mentale in tutta Italia. Sì 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 esatto, è la nostra manifestazione di apertura del nuovo anno sportivo 2022-2020 e iniziamo con questo spaccato di calcio, questa manifestazione che guarda sicuramente quella delle nostre manifestazioni che guarda più al sociale e appunto una grossa opportunità per tutte le persone che gravitano intorno ai centri di salute mentale e ai ripartimenti di salute mentale. Perché ricordo insomma qui giocano gli operatori, i medici, le persone appunto che gravitano intorno a queste strutture, comprese i familiari e quindi insomma veramente tutti insieme, uomini, donne, non ci sono distinzioni di nessun genere ecco. Ma ho letto bene, 30 partite o quasi in tre giorni? Esattamente sì, 30 partite o quasi in tre giorni e adesso se ne è appena conclusa una, tiratissima ai rigori, tra insieme per lo sport Genova va pensiero di Parma, 4 a 5. Senti Alessandro ci hai descritto ovviamente la foto, l'immagine di questi campi da calcio, ragazzi, ragazze, giovani, persone più in età, vogliamo avere anche un po' la fotografia degli spalti? Ti hai detto molte famiglie ovviamente, molti familiari, proviamo a raccontare insomma gli spettatori, chi sta assistendo a queste partite? Sì, sì, ma ora tutte le persone ripeto che gravitano intorno a un momento sportivo come viene fatto normalmente e con la peculiarità di questa manifestazione dove in campo siamo veramente tutti uguali, con la stessa maglietta. C'è tifo, c'è grande tifo, per esempio hai raccontato di una partita finita ai rigori, qual era l'atmosfera? Eh sì, no, c'è molta competizione, è una partita vera di calcio con tutti i rismi e le regole di una partita vera di calcio alla quale sfido chiunque a trovare. Rigori terminati con quale parziale, te lo ricordi? Con 5 a 4, quindi un appendice all'insegna dell'equilibrio, grazie, grazie ad Alessandro Barri. Esatto, prego, prego, grazie a voi. Ivano, c'è il presidente allora per noi ancora. Sì, chiudiamo i collegamenti per un bilancio, ecco, da un bilancio sportivo a un bilancio, diciamo così, etico. Falla tu una domanda al presidente, per favore, Ivano. Ma la domanda più spontanea è se questa manifestazione matti per il calcio è davvero un viatico per rimettere in moto lo sport sociale per tutti di base che nel nostro paese, dopo due anni di pandemia, dopo il caro Bollette, è davvero in ginocchio. Ecco, se può servire a rifar scoccare una scintilla fondamentale per rimettere in moto questo aspetto sociale. Iniziano Pesce, allora? Che tecnico. Assolutamente sì, ovviamente una manifestazione che ci consegna una grande responsabilità come UISP, come associazioni di promozione sociale sportiva, tra le più grandi del paese, in questo momento in cui appunto registriamo un grande entusiasmo, una grande voglia di ritornare a praticare attività sportiva. Ma come anticipava Ivano Maiorello, ovviamente in un momento in cui soprattutto il nostro tessuto associativo di base, le nostre associazioni, società affiliate, i nostri stessi comitati territoriali e regionali presenti in ogni angolo d'Italia, devono fare letteralmente i conti con i bilanci, con gli aumenti dei costi, delle materie prime. Soprattutto ovviamente pensando al caro energie, al gas e all'energia elettrica, bollette che stanno arrivando con rincari del 300, 400, 500%. Pensiamo a tutta l'impiantistica sportiva, da quella più tradizionale a quella più di prossimità nei nostri quartieri. Pensiamo ai grandi impianti, ma non solo, pensiamo alle piscine che sono ovviamente gli impianti più energivori. Ecco che allora una manifestazione come i matti per il calcio, inserita quest'anno all'interno anche della settimana europea dello sport, come richiamavamo in apertura, che in Italia è promossa dal Dipartimento per lo Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Società Sport e Salute, può dal punto di vista nostro, del nostro dovere di rappresentanza nei confronti del movimento sportivo, rappresentare un momento in cui poter riflettere e poter arrivare a quello che noi aspettiamo da tempo, ad un vero e proprio riconoscimento del valore sociale dello sport, a politiche pubbliche che possano sostenere questo movimento di base che sappiamo appunto non è solo competizione, già di per sé importante, è un momento agonistico, ma è socialità, è prevenzione e promozione della salute, è inclusione e coesione delle nostre comunità. Sicuramente ecco quello che colgo l'occasione per ricordare ancora in questa occasione di cui vi ringrazio è che c'è necessità veramente di un piano ecco infrastrutturale, pluriennale di sostegno da partire dal governo centrale nei confronti di quelle decine e decine di migliaia di associazioni di società sportive del territorio che rischiano veramente in tante situazioni in queste settimane letteralmente la chiusura. E speriamo che arrivi indipendentemente da come si formerà il prossimo governo, lo sapete da questi microfoni ovviamente l'esortazione per chi può, per chi decide ad essere vicini a realtà come la vostra e più ampiamente alla realtà di chi ha delle difficoltà e ha bisogno davvero di sostegno e anche di simpatia direi perché non è una questione solo di soldi e mezzi ma anche di vicinanza ideale. A tale proposito presidente da parte di tutta Radio Uno Sport la preghiamo insomma di trasmettere un abbraccio virtuale a tutti quanti, oggi sono con voi a Cesenatico e io ringrazio Ivano Maiorella che ha reso possibile questo articolato ma credo riuscito collegamento perché insomma abbiamo ascoltato voci, voci che ci hanno emozionato. Grazie anche a te Ivano. Grazie e ne approfitto per ringraziare due giovani colleghi che mi hanno affiancato qua se me lo permetti. Certo, con piacere. Giorgio, Roberto Rodio e Elena Fiorani perché queste cose si fanno sempre in segni in squadra, in equip e per noi le squadre sono le redazioni. Grazie. Bravi ragazzi. Sport, ciao. Grazie, grazie Ivano Maiorella. Grazie.